Certo che è proprio incredibile quello che mi stai dicendo, quindi la gente sarà chiusa in casa. Allora, in alcuni momenti sì, per esempio a marzo 2020, proprio quando scoppia in Italia, il governo chiuderà il lockdown per 50 giorni, due mesi chiusi in casa, una paura che non immagini. Eh, minchia, una pandemia globale, roba da film, è anche difficile crederci, sai? E poi? E poi? E poi se ne parlerà sempre di meno, anche perché poi nel 2022 scoppierà la guerra in Ucraina. E che cazzo? Che periodo di merda però? Senti, parliamo di cose più allegre, ti va? La nazionale? Abbiamo fatto una figura di merda al mondiale del 2010 che non ne voglio neanche parlare. Dimmi che il 2006 non sarà l'ultima vittoria perché... Allora, nel 2020 l'Italia vincerà l'europeo, però poi non si qualificherà al mondiale né nel 2018 e né nel 2017. Ma che stai dicendo? Cioè, proprio non qualificati. Balotelli scoppierà a Balotelli? Balotelli scoppierà, farà qualche anno buono ma poi sparirà del tutto. Sì, ma una buona notizia me la dai? Una. Tipo, in amore? In amore è bene, in amore è bene. Mi frequento con una ragazza da un paio d'anni e... Oh, mi fa piacere. Le cose sembrano andare bene. Io in questo periodo invece troppo zero. Non ho proprio la testa, guarda. Università a palla, faccio teatro, e lo sai. Suono, e lo sai. Faccio animazioni di feste per bambini, e lo sai. Mi diverto un botto. Sono impegnato in chiesa, nell'azione cattolica. Insomma, ora come ora non ho proprio testa per stare con una ragazza. Sono troppo impegnato. Mai dire mai nella vita. Siamo a maggio 2012 in questo momento, giusto? Tra qualche mese, quest'estate, incontrerei una ragazza che ti cambierà la vita. Addirittura. Perché sarà un amore tossico. Sarà un amore tossico che ti porterai appresso per tre anni minimo. Per tre anni. Io. Per tre anni. Che la relazione più lunga che ho avuto è stata sei mesi. Ma che cosa vuol dire che sarà un amore tossico? Che vuol dire? Vuol dire che vi vorrete, però non riuscirete mai a stare bene insieme. Però contemporaneamente non riuscirete mai a lasciarvi. Insomma, sarà difficile. Ci saranno alti e bassi per tre anni. E l'università? Riuscirò a laurearmi? Sì, però non subito. Praticamente tra un po' finirai tutti gli esami tranne uno. Uno che ti rimarrai in sospeso proprio perché ti butterai in questo amore tossico che ti toglierà il sonno. Quindi verrai bocciato, entrerai in crisi e rimarrai fermo su quest'esame per due anni. Senti, di cose assurde me ne hai dette. La pandemia, la guerra in Ucraina, l'Italia che non va al mondiale, io che mi butto in una relazione tossica, tutte cose assurde. Però, fino ad ora, ti posso dire la verità, ti avevo creduto. Cioè, poco a poco era plausibile. Ma io, io, che non sono mai stato bocciato, mai, ho avuto una carriera, ma non dico brillante, però ottima, che io possa rimanere fermo sull'ultimo esame per due anni? Impossibile. Impossibile. Mi stai prendendo in giro. Eppure, eppure andrà così. No. E l'altro, per me è un periodo così positivo ora. Cioè, il fatto che tra qui a qualche mese possa cambiare così tanto, non lo so. Tra l'altro non ti ho detto un'altra cosa. Sai, in questo periodo ho iniziato a caricare dei video su YouTube. E tu? Te lo ricordi questo periodo? Ne carichi ancora video su YouTube? Caspita se ne carico. Ci sono oltre mille video a nome DatoBax su YouTube. Oggi è il mio lavoro. Cioè, tu mi stai dicendo che nonostante la laurea in ingegneria informatica, il tuo lavoro è fare YouTube. Cioè, ti pagano così bene. Non è un fatto di guadagni. Non guadagno quanto guadagnerei se facessi, che ne so, l'ingegnere informatico. È un fatto di passione. Bello, bello, bello. Insomma, non guadagno un cazzo. No, non guadagno un cazzo. Però riesco a mantenermi da solo. Con i soldi miei, abito da solo. Non abito più a casa dei miei. Ho comprato la macchina da solo, la partita IVA, il commercialista, il conto in banca. Insomma, guadagno quello che mi serve per vivere. Facendo quello che amo. Bello, mi fa piacere. E quindi fammi capire, cioè, tra dieci anni fare lo YouTuber sarà tipo un mestiere riconosciuto da tutti. No, vabbè, non proprio da tutti. Ci saranno sempre quelli che diranno tipo, ma vai a lavorare, hai i miei tempi. Però la situazione è in crescita. Tieni conto che già da qualche anno vengo chiamato nelle scuole per fare progetti didattici. Tipo per spiegare il web, l'opportunità del web ai ragazzi, insomma cose di queste tipologie. Bello, 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 bello. No, guarda, questa cosa mi fa un sacco piacere, ti giuro. Anche perché ci sto prendendo un sacco di gusto a fare YouTube. Non hai idea. Cioè, non fraintendermi. Amo quello che studio ad ingegneria. Però l'idea di giocare il videogioco e parlarne, analizzarlo, mi esalta di più rispetto all'idea di farlo. Non ti so spiegare. Quindi, insomma, sono contento, sono contento. Però guarda, l'unica cosa che non riesco veramente a mettere giù, a buttare giù, è sto fatto dell'amore tossico. Che proprio non riesco. Come succederà? Cioè, che cosa accadrà? Cosa succederà? Praticamente a fine estate, totalmente a caso, conoscerei una ragazza e perderai la testa. E lei anche, diciamo. Quindi, come dire, partiranno una serie di eventi, insomma, perché non sarete proprio compatibili, però vi desidererete a tal punto da non riuscire, insomma, a farla andare avanti. È complicato. Guarda, a fine estate, peraltro, mi sembra proprio una cosa... E se non ci andassi proprio a conoscerla? No, invece ci devi andare. Perché? Cioè, se mi farà stare così male in futuro, perché ci devo andare per forza? Perché tutto ciò che farai tu ti porterà ad essere me. Io non esisterei come sono adesso se tu non avessi fatto le esperienze che hai fatto. È per questo che è così importante agire. Pensare, riflettere, però agire. Anche a costo di sbagliare. E te lo dico. Sbaglierai tanto, ma ogni tuo errore mi sta servendo ora, in quello che faccio oggi. Sì, beh, la cosa che si dice, no? Il coraggio non è non aver paura, ma agire nonostante essa. Guarda, è pazzesco quante cose cambieranno tra dieci anni, sai? Ma questo video lo caricherai su YouTube? Certamente. Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico del futuro? Grazie ragazzi. Grazie di esserci. Alla prossima ragazzi. E noi? Noi ci vediamo tra dieci anni, veramente. Grazie a tutti.